Buongiorno e ben trovati al primo appuntamento settimanale con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi, lunedì 30 maggio. In primo piano troviamo il vertice europeo in programma oggi per definire alcune vicende molto importanti. Innanzitutto il tetto al prezzo del gas sul quale sembra sia stata trovata un'intesa, mentre non c'è alcun accordo sull'embargo al petrolio russo, una vicenda che rischia di mettere in crisi l'unità politica europea. Ma andiamo subito sul Corriere della Sera che titola Europa apre sul tetto al prezzo del gas. Oggi il Consiglio a Bruxelles, Orban, frena ancora sulle sanzioni. Erdogan sentirà Putin. Zelensky a Kharkiv. Nuovi ride russi. Orrore a Mariupol. Corpi in un market. Leggiamo. La dibattuta questione del tetto del prezzo del gas arriva al Consiglio europeo in programma oggi a Bruxelles. Una battaglia che l'Italia sta portando avanti in prima linea. Sempre in sede europea si parlerà delle sanzioni alla Russia con l'Ungheria di Orban, contraria. Il presidente turco Erdogan sentirà Putin. Sul fronte militare continuano i ride delle truppe di Moskald, Donbass. Ancora orrore nella maritoriata città di Mariupol. Trovate decine di corpi in un market. Zelensky in missione a Kharkiv. E a proposito del prezzo del gas, nella seconda pagina del Corriere della Sera troviamo che c'è proprio questo argomento al centro del vertice dell'Unione europea, che resta spaccata però sul petrolio. Berlino vuole estendere l'esenzione per l'Ungheria all'oleodotto che serve Germania e Polonia, l'ipotesi di approvare il pacchetto in due fasi. E allora leggiamo un passaggio di questo articolo. L'Italia segna un punto nella sua battaglia per introdurre un tetto al prezzo del gas a livello internazionale. Roma ha ottenuto un'apertura sul tema dopo l'opposizione durata mesi da parte dei paesi nordici Germania e Olanda in testa. Nelle conclusioni del summit straordinario dei leader dell'Unione europea, che si tiene oggi e domani a Bruxelles, si legge che il Consiglio europeo invita la Commissione a esplorare con i partner internazionali le modalità per frenare l'aumento dei prezzi dell'energia, compresa la fattibilità dell'introduzione di trepti ai prezzi temporanei. Fondamentale è stata l'azione del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani su Berlino venerdì scorso alla G7 Energia, mentre la richiesta di inserire prospettive di pace nella parte dedicata al sostegno dell'Ucraina, caldeggiata proprio da Grecia e Cipro, non sembra concretizzarsi. E ancora niente accordo tra i paesi dell'Unione europea sul sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca per l'invasione dell'Ucraina. L'embargo sul petrolio russo continua a dividere, così come in queste ore sta dividendo la telefonata al presidente russo Vladimir Putin, fatta dal presidente francese Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. Sabato scorso e precedentemente dal premier Mario Draghi, nel tentativo di arrivare a dei negoziati e sbloccare le esportazioni del grano e dei cereali ucraini per scongiurare una crisi alimentare mondiale. I paesi baltici dell'Europa orientale non hanno apprezzato la mossa diplomatica. Oggi sarà il presidente turco Erdogan a chiamare Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky nel tentativo di aprire un dialogo tra Mosca e Kiev. Intanto è stallo sull'embargo. La riunione di quattro ore degli ambasciatori presso l'Unione europea ieri non ha permesso di sbloccare la situazione. Si rivedranno questa mattina. Resta il veto dell'Ungheria, ma ieri pomeriggio anche altri paesi, tra cui l'Olanda, hanno sollevato perplessità per la soluzione proposta che prevede delle sanzioni. Il Consiglio europeo straordinario inizierà solo nel pomeriggio e il tentativo di trovare un'intesa avverrà nelle prossime ore. Cambiamo argomento. C'è l'editoriale di Angelo Pannibianco che scrive dei leader deboli il parlare chiaro che manca. Quando esplode una crisi così grave da segnare una censura radicale con il passato e una comprensibile forma di autoinganno raccontarsi che non appena la tempera attuale sarà superata, tutto ricomincerà come prima. Si potrà tornare alla normalità, intendendo per normalità la vita che si conduceva prima che la crisi si manifestasse. Le divisioni alimentate in Italia e comunque in Italia, con particolare intensità dall'invasione russa dell'Ucraina, sono soltanto una dimostrazione della forza del partito anti-americano e dell'elevato numero di coloro che detestano istituzioni e simboli della democrazia occidentale. Forza in numeri la cui consistenza può stupire solo coloro che ignorano la storia di questo paese, la sua antica, faticosa coabitazione fra opposte visioni del mondo. C'è anche, a malapena, celato dalle divisioni ideologiche qualcosa d'altro, una sorta di rimozione, di negazione della realtà che nasce da un diffuso desiderio di rassicurazione collettiva. Poi via via il resto di questo editoriale. A centropagina due fotografie, la prima di Leclerc, infuriato dopo la pessima figura del suo team in Ferrari al Gran Premio di Monte Carlo e l'altro la vittoria dell'australiano Hindley che ha vinto il Giro d'Italia entrando in rosa a Verona. E poi l'argomento si sposta sui temi economici. Arriva il sì di Cassa Depositi e Prestiti ad una rete unica Team Open Fiber. Ieri i tre CDA con l'intesa sulla telefonia. Via libera da Cassa Depositi e Prestiti al cantiere per la rete unica con l'accordo tra Team e Open Fiber. Dopo i consigli di amministrazione di ieri, lettera di intenti firmata con il patto vincolante da siglare entro ottobre per integrare le infrastrutture. In gioco il futuro digitale del Paese è un pezzo importante del PNRR. Fissate le tappe. Entro il 2025 la nascita di una rete unica ultraveloce in fibra ottica, neutrale e aperta a tutti. Cassa Depositi e Prestiti sarebbe pronta ad acquisire tutte le quote della rete Team. In discussione, lo ripetiamo però, soprattutto la questione dei debiti di Team e su chi dovrà accollarsene con i sindacati che temono ripercussioni sull'assetto del personale e dei dipendenti del colosso delle telecomunicazioni italiane. E poi oggi minacce hacker e dati rubati. Tocca all'Italia. Vi colpiremo la sfida dei gruppi filorussi. Giovanni Bianconi scrive, è un colpo irreparabile. Alle 5 di oggi il gruppo di hacker filoputiniano Killnet minaccio all'Italia. Si teme una nuova aggressione ai sistemi informatici, l'ipotesi che possano puntare a catturare informazioni sensibili. E passiamo alla Repubblica, il quotidiano che invece titola sempre sull'energia, accordo in Europa sul tetto del prezzo. Via libera alla misura che è stata Draghi. Ora la parola passa alla Commissione europea. Embargo al petrolio, fumata nera, orrore. Mario Pol, trovati corpi ammassati in un supermercato. Ecar russi minacciano. Danneggeremo l'Italia. Il consulente di Salvini svela, ecco il nostro piano di pace per Putin. Vedete a centropagina questa drammatica fotografia dei corpi di civili ammassati in un supermercato del quartiere Livoberenzi, nella foto diffusa dal consigliere del sindaco di Mario Pol. C'è l'editoriale, firmato da Ezio Mauro, che scrive il mito rovesciato di Mosca. Come i palazzi di San Pietroburgo, che si specchiano al contrario nelle acque della neva, torna ad agire sull'Europa ipnotizzandola e dividendola. E c'è anche il commento, il tempo percepito della guerra. Gabriele Romagnoli scrive, la guerra, la pace, l'amore, la morte, è sempre questione di tempo. Ma siamo sicuri che venga percepito ovunque alla stessa maniera? E cosa ne deriverebbe se così non fosse? Prendiamo ad esempio la comicità e via via nelle pagine interne poi il resto di questo editoriale. Il reportage L'ultimo caffè dei combattenti sulla starada per Severed Donets ne parla l'inviato Fabio Tonacci. E ancora due notizie di sport, il Monza va in Serie A ma a Pisa fa soffrire Gagliani e Berlusconi. E poi ancora il Gran Premio di Monte Carlo, Formula 1, Pasticcio Ferrari, Binotto, ho sbagliato, affermare Leclerc. E passiamo alla stampa, il quotidiano di Torino, che titola L'Europa spaccata sulle sanzioni. Draghi incassa il primo sì al tetto del gas, ma sul recovery energetico la strada è ancora in salita. E ancora sta alla Bruxelles, sull'embargo al petrolio, il Consiglio europeo rischia di essere un fallimento. Leggiamo il richiamo in prima pagina. Non è bastata una lunga domenica di trattative al tavolo dei diplomatici dell'Unione europea. L'intesa sull'embargo per il petrolio russo ancora non è stata raggiunta. In compenso, il premier italiano Mario Draghi ha ottenuto che per la prima volta si parli esplicitamente in una bozza di un tetto al prezzo del gas. E leggiamo nell'analisi da parte di Lucio Caraccioli, che parla di geopolitica, le cinque anime della Nato a pezzi. C'era una volta una Nato. Oggi ne contiamo almeno cinque, più il capogruppo americano, con il pallido vicino canadese, sommersi ma identificabili ben prima dell'invasione russa dell'Ucraina, emersi a tutti visibili al quarto mese di guerra. In ordine di avversione a Mosca e vicinanza a Kiev, ecco l'avanguardia antirussa estesa lungo l'asse dei tre mari, Artico, Baltico e Nero, perno centrale alla Polonia, ali nordiche, Estonia, Lettonia, Lituania, con la Scandinavia allargata, Svezia e Finlandia sono in procinto di aggiungersi a Norvegia e Danimarca. E ancora, quel grano usato come arma letale, è l'analisi firmata da Francesca Mannocchi. Due mesi fa, Dimitri Mevdeted, ex presidente e oggi alto funzionario alla sicurezza russo, disse, molti paesi che dipendono dalle nostre forniture per la loro sicurezza alimentare stanno scoprendo che il cibo è la nostra arma silenziosa. Se ne è accorto il mondo che ha bisogno di cibo, se ne sono accorte le istituzioni europee allarmate dalle conseguenze, parlando al World Economic Forum di Davos in Svizzera, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha usato la parola ricatto per descrivere il blocco di 22 milioni di tonnellate di grano. E poi, nelle pagine interne, si prosegue. Mentre a centropagine, vedete questa fotografia drammatica, macelleria Mariupol. Gli ucraini, i russi accumulano i nostri morti nei supermercati come fossero immondizia. E ancora un'altra vicenda che viene però dagli Stati Uniti, dal Texas in particolare, il dolore dei Biden alla Rob School, ma ora dovete fermare le armi. Le famiglie delle vittime di Uvalde chiedono a Joe Biden di interrompere l'immobilismo di cui è ostaggio l'America del Far West delle armi da fuoco per evitare stragi come quella della scuola elementare della cittadina del Texas, si ripetano. E lui, commosso, risponde «Lo faremo». E ancora la Gran Bretagna, se Londra diventa povera e cattiva. Simonetta Agnello Horby scrive «C'è una data che indica quando il coronavirus è stato riconosciuto nel Regno Unito il 31 gennaio 2020, cioè due anni, tre mesi, tre settimane e quattro giorni al 25 maggio 2022, in cui scrivo. Quel giorno, in un albergo della città di York, una coppia di cinesi venuti dalla Cina si sentirono male, marito e moglie, e dovettero essere ricoverati in ospedale. La diagnosi fu confermata quattro mesi dopo, il 24 maggio del 2020. E ancora il dibattito «Che figata fare il papà Valentino e i nuovi genitori». E ancora il calcio, Grandeur Berlusconi, Monza Inà e Sonia Belotti. E passiamo ai giornali di ambito regionale, cominciando con la Gazzetta del Mezzogiorno, il giornale di Puglia e Basilicata, che si occupa dei pomodori. L'oro rosso a rischio. I coltivatori pugliesi e lucani sono in tumulto. La filiera industriale paga troppo poco i pomodori senza un accordo sul prezzo. Addio alle semine. Ed è un gravissimo problema alimentare che riguarda appunto l'intero mezzogiorno, non soltanto Puglia e Basilicata. E c'è anche il commento «Duello al sole» di Filippo Santigliano. E ancora si parla di calcio. Ancellotti è il trionfo di un italiano normale. E intanto a palla a mano il conversano concede il bis ed è scudetto. E c'è anche un intervento di Arturo Guastella che parla della magistratura «La carica delle donne». E passiamo all'edicola del Sud. Altro giornale di Puglia e Basilicata che nella sua edizione di Bari titola «Ex Fibronit» si comincia con le visite guidate. Primi visitatori nel vecchio stabilimento industriale dove troverà posto il Parco della Rinascita. Un provvedimento atteso almeno una trentina d'anni. E ancora allarme traffico, code incidenti sulla statale. Mentre a centropagina vedete questa fotografia il ritorno della DJ Ten in 7000 riportano la gioia a Bari. Ha corso anche il sindaco De Caro mentre Linus sul palco mangiava la focaccia tipica barese. E ancora spostiamoci al messaggero. Messaggero il giornale della Capitale che si occupa delle vicende di cui abbiamo già parlato del gas. Sì al tetto del prezzo se c'è l'accordo nel G7. Oggi il vertice europeo ma sul petrolio è ancora stallo. Leggiamo. Tetto al prezzo del gas. Primo passo dell'Unione europea. Mai stallo sull'embargo del petrolio russo. C'è un nuovo veto ungheresi alla vigilia del summit dei leader che inizia oggi pomeriggio a Bruxelles. L'irritazione di Berlino. Unità europea in pericolo sul metano o CAP da condividere con i paesi partner di Bruxelles. E c'è ancora l'editoriale di Paolo Pombeni. Gli interessi di un paese che non mutano con i governi il viaggio a Mosca. Ormai una certa parte della nostra politica sembra organizzata come un gioco d'azzardo dove il tema è spiazzare gli avversari, mettere in scena un blef e vedere se ci cascano. Non è mai un bel vedere, è sempre rischioso, ma ci sono terreni dove questo approccio dovrebbe essere vietato. Uno è la politica internazionale, l'altro è quello che riguarda la tenuta del bilancio dello Stato e dunque la nostra economia. Sono però terreni che promettono visibilità, vuoi presso i media, vuoi presso il grande pubblico quando per quei temi ci sono preoccupazioni crescenti. Di conseguenza molti politici scivolano in comportamenti arrischiati. Non solo Salvini, diciamolo subito, ma lui è molto visibile in una posizione rilevante e dunque fa scalpore. La trovata del suo prospettato viaggio da Putin non è stata felice e per di più poteva anche presumere che non portasse buoni frutti. Il parallelo che hanno fatto filtrare con Lapira è più che strambo, non solo perché questi era un personaggio francescano nel senso vero del termine e poteva godere di una credibilità extra politica che il leader della Lega non ha, ma perché il viaggio di Lapira a Mosca è ancora più quello di Adanoi durante la guerra del Vietnam. Non conclusero nulla e semmai crearono problemi al governo italiano, specialmente il secondo al suo amico Fanfani che in quell'anno aveva anche un ruolo all'assemblea dell'ONU. E ancora altri titoli. Zalensky visita il fronte di Kharkiv, gli hacker russi attacco all'Italia, Mariupol ultimo oltraggio, corpi ammassati in un market. E poi c'è una vicenda che riguarda le tasse italiane, fisco l'algoritmo anti-evasori. Il sistema potrà incrociare i dati dei contribuenti dai conti correnti fino alle bollette. In arrivo 2,5 milioni di lettere ai contribuenti che devono mettersi in regola con le tasse. Leggiamo sulla lotta all'evasione. Il governo prova a dare una sterzata decisa. L'incrocio delle banche dati del fisco per scovare i contribuenti a più alto rischio evasione sta per partire. Via l'algoritmo che sta negli evasori saranno estratte le liste di persone ad elevato rischio fiscale. I nomi saranno schermati con degli pseudonimi. Entro fine anno, previsto l'invio di 2,5 milioni di lettere per mettersi in regola. E poi una vicenda che ha dell'incredibile. Una torta lanciata contro la gioconda. I segni della torta lanciata al Louvre, il Blitz, al Louvre di un ambientalista. Il vetro per fortuna ha protetto il quadro. E ancora a giovani e lavoro, salari bassi e reddito. La grande fuga dei camerieri. Nel turismo non si trovano più camerieri, cuochi, baristi, receptionist, animatori turistici e agenti di viaggio. Nel complesso il settore fatica a reperire 300 mila addetti. Per un terzo si tratta di camerieri, ne mancano circa 100 mila. Fanno sapere da Federalberghi. Cercasi 60 mila cuochi e 50 mila baristi. Cercare stia anche di addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione, servono ad esempio 100 mila receptionist. Insomma, un dato anche questo preoccupante. E passiamo al mattino. Il giornale di Napoli e della Campania. Il mattino che titola spara nel gruppo per vendetta quattro feriti. Una notizia di cronica che viene da Aqualiano, in provincia di Napoli. La pistola rubata ad un vigilante. Due rischiano la vita. Deriva movida nel cuore della notte. Aqualiano, nel Napoletano, ruba la pistola ad una guardia giurata e spara all'impazzata contro un gruppo di persone davanti ad un bar dopo una lite. Quattro i giovani feriti. Due erano lì per caso. L'attentatore era in libertà vigilata. E c'è anche un'intervista su questa vicenda. L'ha fatta Leandro Del Gaudio. I pubblici ministeri. Deriva americana. Servono più agenti per strada. E ancora un'altra intervista, questa volta di Giuliana Covella, il papà di Analisa Durante. Bisogna ripartire dalle famiglie. E poi la politica internazionale. Le vicende anche qui legate alla cronaca degli hacker filorussi. Italia nel mirino. Annunciato per oggi un colpo irreparabile al nostro paese. Allarme per i dati sensibili a rischio. Sanzioni a Mosca. Tetto al prezzo del gas. Ma stallo. Sul petrolio. Erdogan. Sentirò. Zelensky e Putin. E ancora arrestiamo i temi economici. Dalle bollette ai conti. Il superalgoritmo a caccia degli evasori. Pronto. Il decreto prevede l'incrocio delle banche dati. Entro fine anno. 2,5 milioni di lettere. Mettetevi in regola. Sulla lotta all'evasione del governo in campo. L'incrocio delle banche dati dal fisco per scovare i contribuenti a più alto rischio evasione sta per partire. E l'arma sarà un superalgoritmo. Entro fine anno partiranno 2 milioni e 500 mila lettere. E poi vedete a centropagina una fotografia di Sport. L'ultima impresa di Berlusconi. Monza in A dopo 110 anni di storia. Il Cavaliere nel 2017 aveva lasciato il Milan. Ora ci sarà questo presunto derby con la sua vecchia squadra del cuore. E poi la notizia di Parigi. Il blitz di un ambientalista. Louvre torta sulla gioconda. Mona Lisa salvata dal vetro. E chiudiamo con il quotidiano del sud dell'altra voce dei ventenni. Il giornale del lunedì del quotidiano del sud diretto da Roberto Napoletano che nel suo editoriale di prima pagina si occupa del tema della scuola e dello sciopero della scuola di oggi. Per cambiare bisogna esserci. Espressione di una struttura malata e dei problemi di alcuni sindacati e di alcuni partiti. Leggiamo. La rappresentazione mediatica che il paese dà della scuola italiana è completamente errata. Ignora il miracolo avvenuto della riapertura senza mai chiuderla e dei docenti in cattedra dal primo giorno dell'anno scolastico grazie ai concorsi e alle assegnazioni a termine fatti in estate. Evento che non ha precedenti dal dopoguerra a oggi perché mai prima di fine ottobre e novembre si era completato il collegio dei professori per una classe. È stata fatta la riforma della scuola, sono stati rinnovati i contratti, si sono per la prima volta inseriti criteri meritocratici con tutte le complicazioni del caso. Bisogna esserci per misurarsi con i problemi, non nascondersi dietro la nuvola della demagogia. Bisogna fare tutte le cose che si possono fare, non declamare e far finta di inseguire tutte quelle cose che sono impossibili. Perché il paese e i nostri figli, prima di tutto, devono pagare la crisi del sindacato e dei partiti? E questa è la domanda che si pone Roberto Napoletano. Chiudiamo con qualche titolo. L'Italia schiera la contraerea digitale contro l'attacco degli hacker russi. Bonus psicologico, c'è il rischio click day, ne scrive Maria Teresa Pedace. E ancora chiudiamo con è tempo di guerra di Carlo Jeanne. I russi cambiano strategia, prima bombardano, poi arriva la fanteria. Ed era questo l'ultimo titolo del quale ci siamo occupati in questa rassegna stampa, che torna domani, stessa ora, stessa rete. Per il momento non andate via e restate con i nostri programmi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.